Parliamo di Torre Talao che si trova sul terreno cosentino a Scalea, nel mare di Scalea. Un tempo era un'isola, fino ai primi del Novecento è stata un'isola, poi si è ricongiunta alla terraferma. Perché si chiama Torre Talao? Perché anticamente tutti questi luoghi venivano definiti katalaon in greco antico, cioè i luoghi intorno al fiume Lao. In seguito nei documenti sono scomparse le prime due lettere, K e Alfa, ed è rimasto solamente Talaon. Da quel momento in poi questa torre viene chiamata Torre Talao. Era una torre di avvistamento, come ce ne sono tante, tante sul terreno. E in seguito è diventata poi, col passare del tempo, è diventata addirittura proprietà privata. L'aveva acquistata un signore di Mormanno, si chiamava Armentano, che lì è vissuto con la famiglia per diverso tempo. Poi l'ha ereditata il figlio, Amedeo Rocco Armentano, uno dei personaggi più interessanti di Scalea, in quanto era nato a Mormanno, pure lui, nel 1886. Poi, quando tutta la famiglia si è trasferita a Scalea, è venuto ad abitare proprio sulla torre, in quella casa derocata che ancora si può vedere. L'importanza di Armentano qual è? È che lui era un appassionato di scienze occulte, come diceva lui. E infatti si era lavorato a Parigi, in scienze occulte, cioè in ermetismo, che erano gli studi che forse all'epoca andavano di moda. L'ermetismo, l'esoterismo, la cabbala ebraica, il petagorismo, ecco, tutti questi interessi culturali piuttosto, diciamo, ricercati e rari. Sulla torre, Armentano animò un circolo letterario, un cenacolo letterario e filosofico, che si ispirava alla filosofia di Pitagora. Qui venivano, o diciamo, erano in corrispondenza con Armentano, i più importanti intellettuali dell'epoca che si interessavano di esoterismo. Fra questi Giovanna Mendola, Enrico Frosini, che aveva fondato il rito simbolico della massoneria italiana. Ed egli stesso era un massone. Era stato iniziato a Firenze, nella loggia Lucifero, nel 1905. E a Firenze entrò a far parte del circolo delle Giubbe Rosse, dove si sperimentavano le avanguardie del primo novecento italiano. Rimase sulla torre fino al 1921. Poi emigrò in Brasile, dove conobbe la figlia di una sua sorella e la sposò. Ma non la poteva sposare in Brasile stesso, perché in quello stato erano proibiti i matrimoni tra i consanguinei. E si dovette recare a Montevideo, in Uruguay. Poi si ritrasferì in Brasile, ritornò in Italia, ma non ci poter restare se non fino al 1924, perché i rapporti con il fascismo ormai imperante erano diventati difficili, quasi impossibili. E allora ritornò in Brasile, da dove non fece più il ritorno in Italia. Morì nel 1966. E all'inizio del complesso di Torre del Talao, c'è una lapide che lui stesso aveva scritto, pensando alla sua morte. Ecco, Armendano si può dire che era un filosofo, era un insegnante di musica, insegnò infatti al Conservatorio musicale di San Paolo, ma era un musicista, compositore, pure lui. Ha scritto dei pezzi per pianoforte, molto interessanti, ma il suo sogno era quello di portare a termine un poema sinfonico intitolato Sogno in Magna Grecia. Ne abbiamo conservato solo il preludio chiamato Croton, che è veramente un pezzo difficile da, diciamo, eseguire, e che io ho avuto la fortuna di ascoltare al pianoforte da una sua pro-nipote che è stata qui a Scalea e ha voluto visitare la Torre Talao. In questa torre si facevano dei riti, massonici soprattutto, e, diciamo, a Scalea questi signori che si vestivano con delle tuniche bianche, eccetera, venivano considerate dei maghi e la stessa isola veniva considerata l'isola dei misteri. E in questo senso l'ha, per esempio, considerata pure Sibilla Alerano, che aveva scritto un romanzo nel 1910 intitolato Amo, dunque sono, e parla di un'isola incantata in mezzo al mare, verso Scilla, dove si era rifugiato il suo amante, che in effetti era Giulio Paris, per essere iniziato anche lui agli misteri pitagorici. Armendano è stato anche un benemerito volontario della Prima Guerra Mondiale e in questo periodo ha avuto un incidente molto grave in quanto venne accusato di intelligenza con il nemico. Veniva accusato, in pratica, di aver fornito carburante alle navi nemiche che passavano dal terreno. fu processato a Mondeleone, l'odierna Vibbo, Valencia, ma fu assolto perché il fatto non sussisteva per niente. Dopo la Guerra Mondiale ha, diciamo così, tenuto vivo l'interesse per la massoneria che intanto si era scissa. Si era scissa in Piazza del Gesù, la corrente di Piazza del Gesù nel 1909 e quella di Palazzo Giustiniane. Lui aderì a Piazza del Gesù insieme ad altri come Arturo Reghini, che era un esoterista molto importante, che veniva spesso a Scalea, a fare i bagni alla fonte sul Furia, che era al di sotto della torre stessa. La torre poi ha subito vicende varie, fino a che poi è stata acquistata dal comune e qui si è proceduto pure ad un restauro molto approssimativo, che tuttavia non ha indaccato il valore dell'opera, che è un bene, diciamo così, artistico, si può dire, e culturale comunque di notevole interesse. Diciamo che a Torre del Talao i riti che si facevano richiamavano i grandi spiritualisti dell'epoca. Uno di questi era Giovanni Amendola, il quale era in corrispondenza con Amedeo Rocco Armentano, che si firmava ormai con gli acronimi dei suoi nomi e cognomi, e cioè si firmava ARA, Amedeo Rocco Armentano. In quest'isola si verificò un altro episodio molto bello che appartiene alla storia europea o alla storia delle case regnanti europee. E cioè la principessa di Sassonia abbandonò il marito perché innamorata di un musicista italiano. e nella fuga d'amore venne ospitata proprio con il suo amante a Torre del Talao. Di questa vicenda si fece un film nel 1950 intitolato Romanzo d'amore interpretato da Rossano Brazzi, che allora era uno degli attori più famosi. altri episodi, soprattutto quello che vede riunirsi in questa torre, nella casa di Roccata, che ancora si può ammirare. I seguaci del cosiddetto imperialismo pagano, per essere semplici, queste studiosi sognavano un ritorno all'antica Roma, ma non alla Roma repubblicana, ma alla Roma imperiale. Imperialismo pagano che escludeva tutto quello che poi si è verificato dal cristianessimo in bocchi. Ed erano avversari di un altro tipo di imperialismo impersonato da un italiano di nome Julius Sevola, il quale invece voleva tornare sì all'impero, ma non all'impero romano antico, ma al secondo sacro romano impero, quello di Carlo Magno. Ci sono stati dei debattiti molto accesi, che qui non è il caso di andare a riprendere. Però, ecco, questi dibattiti accesi davano anche vita a scissioni, a, diciamo, separazioni pure dolorose a volte fra questi amici, che poi presero ognuno la propria strada. Armendano presse la strada dell'emigrazione, andò in Brasile dal 1924, come abbiamo detto, e non tornò più in Italia. In Brasile venne chiamato a insegnare al Conservatorio Musicale di San Paolo e nel 1959 venne incaricato di comporre l'inno dei Cavalieri di Malta di San Paolo. Quando morì in Vondo ebbe molti riconoscimenti nella stampa brasiliana dell'epoca, ignorato completamente in Italia. Questa è una vita molto avventurosa, come abbiamo visto, che presenta molti punti di notevole interesse, anche qualche pagina oscura e tormentata, come abbiamo visto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, ma è un'esperienza che vale la pena conoscere in un territorio in cui la tradizione esoterica era molto sentita ed era un retaggio di quello che ancora oggi si chiama Magna Grecia, non perché fosse un territorio grande come si potrebbe pensare, ma perché in Magna Grecia c'era stato il più grande filosofo dei suoi tempi che era appunto Pitagora che aveva dato luogo ad una filosofia misterica basata sui numeri, sull'armonia e sulla musica e non per niente Armentano era un profondo conoscitore della musica e un apprezzato compositore anche lui.